Proseguono le politiche dell'amministrazione comunale che puntano alla riqualificazione delle aree verdi con il coinvolgimento dei cittadini e dopo l'adozione di aiuole e giardini parte il primo avviso pubblico per la realizzazione dei punti verdi qualità. L'iniziativa fa seguito a una delibera consigliare proposta dal consigliere Carmine Attanasio e vuole assicurare una manutenzione efficace degli spazi verdi di proprietà comunale attraverso il contributo di soggetti pubblici e privati che potranno realizzare anche punti di aggregazione sociale e culturale. È nata il 31 luglio del 2012 con l'approvazione in consiglio comunale di una delibera che permette ad associazioni, privati, comitati di fare impresa ecocompatibile in un'area pubblica, in un parco e noi abbiamo messo adesso a bando alcune delle aree della città per fare in modo che il comune non abbia più costi di gestione e di guardiania. I privati mantengono l'area verde, la gestiscono con gli stessi orari dei parchi pubblici e alla fine il comune non ci deve più spendere soldi. Questo è un modo per creare anche delle occasioni di lavoro e per fare in modo che le aree verdi possano essere gestite nel modo migliore. I soggetti selezionati sulla base delle migliori idee saranno invitati a realizzare nei parchi cittadini aree gioco, punti ristoro, stazioni ecologiche, punti vendita o spazi di intrattenimento e si occuperanno della gestione dell'area senza costi di manutenzione per il comune. Noi permettiamo di fare impresa nel 10% dell'area, quindi possono mettere un punto di ristoro o un parco gioco a pagamento, cioè tutto quello che concerne il 10% a pagamento. Il restante 90% dell'area è un parco pubblico a tutti gli effetti. Noi pensiamo sempre che la partecipazione e la condivisione rispetto a un progetto sia il miglior deterrente rispetto anche ad azioni di sabotaggio, atti di inciviltà che mettono a volte in difficoltà alcune strutture pubbliche. Recentemente la Giunta Comunale ha approvato anche una delibera per l'affidamento dell'area a nord del parco di Scampia, attualmente chiusa al pubblico, alla cooperativa sociale L'Uomo e il Legno che si farà carico degli interventi di riqualificazione. Noi speriamo che oggi con l'annuncio e i prossimi giorni ci sarà l'avviso pubblico, il bando, molte altre iniziative si potranno sviluppare in tutti i parchi cittadini.